chiara ci racconta ogni martedì alle ore 16 un racconto per i bambini e il giovedì sempre alle ore 16 un racconto per tutti chiara ci racconta su www.noiframmentidisiena.it e nella pagina facebook noi frammenti di siena buonasera e ben ritrovati a chiara ci racconta e grazie a noi frammenti di siena naturalmente allora stasera vi vorrei leggere una versione dal latino all'italiano di un'alunna della terza d del liceo volta di poggi bonzi e dunque vi leggo il commento che ho trovato della sua professoressa non capita troppo spesso ma quando succede quando trovi i lavori fatti così ad arte si tratta di una traduzione dal latino ineccepibile da un punto di vista morfo sintattico adeguata e raffinata nelle scelte lessicali e non realizzata da qualcuno di quinta con tanta esperienza sulle spalle ma da un allievo di terza che dopo un anno di lavoro tenace seppur in queste condizioni ha imparato che l'operazione della traduzione è insieme il riconoscimento delle strutture e la loro resa attraverso un lessico pertinente e adeguato al contesto quando succede dicevo mi emoziono e mi sono emozionata anche io per questo ho chiesto alla professoressa di inviarmi questa traduzione non possiamo dire il nome dello studente o della studentessa però veramente bellissima una traduzione stupenda e quindi si ritorna un po mi vorrei ricollegare al discorso che si faceva sulla lingua latina un paio di settimane fa che solo per alcuni aspetti è una lingua morta in realtà non lo è presente nel nostro parlare e con traduzioni come questa veramente si potrebbe assolutamente tenere in vita e anzi vorrei aprire una possibilità che ci potrebbe dare noi frammenti di siena e parlare ad altri professori se avete dei testi che davvero vale la pena di diffonderli scrivetemi potete scrivere a me o alla redazione di noi frammenti di siena a messa voi chiara chiocciolagmail.com ed io li leggerò davvero molto volentieri perché i lavori dei ragazzi sono sono un punto avanti quando sono belli sono sono veramente riempiono il cuore ed emozionano allora la traduzione dal latino di questa versione è vercingetorix conosciuta la sua decisione si corre alle armi viene allontanato da suo zio paterno e dagli altri capi i quali ritenevano che non si dovesse tentare questa sorte non desistette tuttavia e predispose un arruolamento nei campi di poveri e disperati radunato questo esercito persuade al suo intento chiunque incontra proveniente dalla città esorta a prendere le armi per la libertà comune radunate grandi truppe allontana dalla città ai suoi avversari dai quali poco prima era stato scacciato rapidamente unisce a sé senoni parisi e altri all'unanimità viene conferito a lui il comando ottenuto questo potere impone la consegna degli ostaggi a tutte queste città ordina che sia rapidamente condotto verso di lui un preciso numero di soldati stabilisce quante armi e prima di quale tempo ciascuna città debba metterne insieme in patria aggiunge un'elevatissima durezza nel comando alla massima scrupolosità infatti commessa una colpa più grande uccide col fuoco e con ogni genere di tortura per un motivo più leggero rimanda in patria dopo aver mozzato le orecchie o dopo aver cavato gli occhi a uno a uno affinché siano di avvertimento ai rimasti e terrorizzino gli altri con l'intensità della pena cioè veramente veramente stupendo grazie grazie a questa professoressa che mi ha inviato il testo grazie a questo studente barra studentessa che ha scritto ha fatto questa traduzione veramente bella e noi frammenti di siena per accogliere sempre tutte le mie voglie le mie e le mie idee strampalate per cui se siete professori e avete dei testi da condividere con il mondo mandateceli chi volesse può seguirmi nella mia pagina facebook chiara sa voi una lettura al giorno e altrimenti ci vediamo giovedì su noi frammenti di siena con chiara ci racconta ciao